Come giudica questa tappa? Beh, è stata una tappa abbastanza regolare, a parte i primi chilometri, un po' di attacchi e poi però è andata via la fuga, è stata abbastanza regolare e nel finale le squadre hanno chiuso la fuga e poi è stata la volata. Adesso la tua squadra è pronta per l'ultima tappa? Sì, noi siamo sempre stati pronti questi giorni, abbiamo raccolto poco perché abbiamo perso il nostro velocista alla seconda tappa per problemi fisici e in questi giorni abbiamo provato di tutto, le fughe e tutto oggi siamo riusciti con questo mini attacco, perdendo lungo la volata e siamo riusciti a vincere. Qual è il grande favorito di questo Gironi? Questo Giro? Giro. Beh, il favorito è stato Pelucchi, che comunque in volata è andato forte perché ha vinto due tappe e anche Guardini. Il clima è duro oggi? Eh, tutti i giorni è stato duro, questo caldo noi non eravamo abituati in Italia, ci sono 15-16 gradi, quindi siamo arrivati, c'erano 40 e abbiamo sofferto le prime tappe, poi adesso ci siamo ambientati e siamo pronti anche per domani. Grazie a Buccalupo. Grazie, grazie. Grazie.